Ora siamo a Miami Beach, incredibile, c'è molto vento oggi, facciamo una zona workout palestra con qualcuno che si allena o tenta ad allenarsi, c'è un vento che dice il nostro albergo, questo è l'Ocean Drive Sono le nove e mezza Adesso andiamo a vedere oltre la duna, qui c'è un tipo che si fa filmare, che fa video, fa calzate social, quel tipo che lo filma, lo fotografa Signore di 97 anni che corre, campi da pallavolo ce ne sono Pietro, cosa dici? E questo? Aspetta Una madonna, attenzione, zoom Questo è fitness in America ragazzi, questo fa i laz, noi tips Andiamo oltre la duna Pietro Siamo oltre la duna sulla famosa spiaggia di South Beach E lì c'è la casettina di Baywatch Con la guardia marina Probabilmente è tolva perché non penso che nessuno entrerà in atto con questo periodo E abbiamo visto i miei conti, i miei conti in un minuto Oggi andiamo con questi, e le ho alcune dei dettagli Le raccogliere all'intervento di oggi Yoser, dove siamo? Everglades, che in italiano significa Everglades, che cazzo facciamo all'Everglades? All'Everglades ci fanno pescare i coccodrini con l'arpione, sono pieni cazzo, vediamo per ratizzare Adesso faremo un giro con le moto d'acqua Questa è la coda per salire sulle airboat, poi partiranno come un tour prima di noi Poi ti fanno la foto E niente, quindi... ... ... Grazie a tutti. 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 Finito il giro in moto, moto d'acqua, ce li andiamo a vedere dal vivo da vicino perché Gator Boys. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.